Aghezzo fa parlare ancora di sé, questa volta perché incontro a tendenza rispetto al dato nazionale, vince il sì. In quella che un tempo era diventata la provincia più renziana d'Italia e nei luoghi dove ci sono state le ripercussioni più forti della vicenda che ha riguardato le banche, gli erettori si sono espressi a favore della riforma costituzionale, così come è accaduto in tutta la Toscana, che si confermano roccaforti del PD e di Renzi in particolare, in città il 50,8% degli elettori ha votato sì, a livello provinciale un consenso ancora maggiore per il sì che raggiunge il 54,07%. Una tendenza interessante nel comune dove Ginelli, schieratosi per il no, aveva sconfitto il renziano Bracciali nella corsa a Palazzo Cavallo. Il dato complessivo della provincia di Aghezzo è ben lontano da quello nazionale, dove il no ha vinto sfiorando il 60% dei consensi. Gli unici territori comunali dell'Aretino in cui ha vinto il no sono stati Badia Tedalda, Castiglion Fiorentino e infine il comune natio del ministro Maria Elena Boschi, la Terina, un dato politico particolarmente significativo. Montemignaio è il comune che ha fatto registrare la percentuale di favorevoli alle riforme più alta, 64,87%. Dei 263.101 aventi diritto al voto si sono recati alle urne in 196.722, circa il 75%. 100%. 100%.